C'è una cosa in cui i tedeschi sono dei veri e propri maestri di vita, dei veri e propri artisti, ovvero quando si tratta di farci, di farvi sentire persone speciali, che sia un regalo di compleanno, che sia un regalo di matrimonio o un regalo di luna di miele. Non sono dei semplici regali, sono delle vere e proprie dichiarazioni di amore, dichiarazioni di amicizia, amicizia però speciale, amicizia veramente forte. E questo aspetto qui va a cozzare completamente con lo stereotipo del tedesco freddo. Solamente coloro che non conoscono bene i tedeschi possono dire una castroneria del genere, ovvero che i tedeschi siano un popolo freddo. Non bisogna fermarsi alle apparenze, anzi, secondo me, per mia esperienza, i tedeschi sono anche molto più calorosi mediamente degli italiani. Se dite una castroneria del genere, ovvero che il popolo del Deutschland è un popolo, freddo vuol dire che siete degli asociali, che non sapete integrarvi, che vivete in Germania magari con i paraocchi, senza uscire dalla vostra realtà fatta magari più che altro di conoscenze italiane. Altrimenti non potreste dire la castroneria del tedesco freddo, perché appena avete un amico del Deutschland capite immediatamente che si tratta di un'amicizia solida, di un'amicizia vera, che durerà per sempre. Coloro che dicono appunto che i tedeschi sono freddi, vuol dire che non li conoscono, vuol dire che vivono in Germania appunto senza approfondire, senza voler conoscere la cultura tedesca, i tedeschi. Vivere con i paraocchi, vivere di stereotipi è la cosa più brutta secondo me che ci sia al mondo. Se scegliete di andare a vivere in Germania, per mia esperienza, un consiglio che vi do è cercate di fare amicizia anche con i tedeschi, perché appunto come ho detto in questo video, i tedeschi sono gli amici più belli, più leali del mondo secondo la mia esperienza. Ciao ragazzi!